Più di 40 espositori provenienti da tutta Italia sono arrivati in città per l'appuntamento dedicato alla fotografia d'epoca. Domenica 29 settembre ad Arezzo torna infatti l'appuntamento con foto antiquaria, la storica mostra mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che ormai da 34 anni è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. La 68esima edizione della manifestazione è organizzata dalla Fondazione Arezzo in Turco con la preziosa collaborazione del fotoclub La Chimera. Siamo contenti che col fotoclub siamo riusciti comunque a portare avanti questa manifestazione dandogli anche un po' una rinfrescata, qui ne è stato fatto un sito nuovo, sono stati fatti delle attività collaterali, dei concorsi perché comunque noi crediamo molto su questo tipo di mercato anche perché il vintage sta tornando di moda, le vecchie lenti, le vecchie macchine sono cose che comunque si stanno avvicinando anche giovani. Ad arricchire la giornata di domenica anche una mostra di fotografie storiche allestite nella sede del fotoclub La Chimera che si trova sotto le logge Vasari. Ma c'è di più da quest'anno infatti in attesa della storica mostra mercato gli appassionati hanno potuto prendere parte ad alcuni appuntamenti collaterali tra questi Fototrace 2019, un evento dedicato alla fotografia analogica con due giornate all'insegna di laboratori aperti, seminari dimostrativi, conferenze, mostre per offrire la possibilità di conoscere e conoscersi attraverso la fotografia. All'informa Giovani di Arezzo si è fatto un vero e proprio tuffo nel passato con la cianotipia, un antico metodo di stampa fotografica caratterizzata dal tipico colore blu di Prussia. Affascinantissime soprattutto perché sono lente da realizzare, implicano tantissimo pensiero dietro quello che si sta facendo e un'altissima qualità artigianale quindi è anche una dimensione di scoperta proprio di quella che è la fisicità, la mettericità della fotografia.